Ho coordinato la seconda parte della giornata relativa all'efficienza energetica e un paio di osservazioni efficaci direi che possono essere le seguenti. La prima sicuramente è il fatto di valorizzare il sistema Modena che è stato in grado nell'arco di un paio d'anni di attivare diversi interventi di progettazione e esecuzione coerenti con la norma e che hanno raggiunto dei risultati tangibili in termini di risparmio energetico e quindi risparmio economico e quindi un rafforzamento a continuare in questa direzione. L'altra osservazione comune fatta a colleghi che questo pomeriggio erano con noi è sicuramente il fatto di stabilizzare anche lo strumento di valutazione economica e finanziaria perché gli interventi di efficienza energetica ora tecnicamente sono conosciuti, sono diffusi e di conseguenza adesso va uniformato la valutazione economica degli interventi in modo che siano effettivamente reddituali. Si possono sintetizzare in questi due aspetti poi effettivamente alcuni interventi sono stati anche molto interessanti dal punto di vista della tecnologia del Curruf, per esempio l'Università di Modena, piuttosto che un intervento di casa clima su edifici che dal punto di vista energetico e architettonico hanno raggiunto degli standard molto elevati.